Come on! Oh yeah! Signori, due persone veramente simpatiche! Ok ragazzi, piano scendere che non c'ho assicurazione, gole! Andiamo col finale Giorgio, Luana ti puoi girare, tanto che la backpack non c'è niente, tranquillo, vai! Al momento giusto Luana, senza nulla togliere, a loro tu sei la più importante! Una volta mollata l'asse, vi mettete a due metri da me, mani dietro la testa e col bacino vi fate la coreografia per il finale, ok? Va bene? Va bene, dai, dai, dai! E quando vi richiamo aiuto, tornate a prendere l'asse che non si uscite! Uno, due! Dio che morbido Giorgio! Veramente dopo ve lo scrivi il nome del prodotto, quest'anno volevo farli ricrescere! Uno, due, tre, vai mollate! Coreografia! Va le mani dietro la testa, è più sexy, vai! Gianni, pervico! Pervico! Ok dai, tranquillissimi! Ok, stop, stop, relax, 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 aspettate che mi dica, Luana intanto accendile tu! No, non c'è un bottone Luana! Conosci Rotella Giro Gas? Sì, magari non prendiamo dalla tua borsa, ti dici uno, siamo qua in mille, ce n'avrà uno l'accendire! Eccolo! Tanto io sono comodo, eh Gianni, mi dai la mano! Quei due invece prima che... Oh Gianni! Se con quella accesa accendi le altre, facciamo prima Luana, eh! Quante cose si imparano agli artisti di strada! Dovrebbero invitarli più spesso, Gianni un passo in là? Luana, me la devi lanciare! No, tutte e tre nel numero delle avventi! Io spero tu sia mancina! Oh ma stasera tutte io le becco così con l'inizio! No, Beatrice, senza nulla togliere, eh! Luana, da qui a lì, senza rotazioni! Quando te lo dico io? Vai! A cagare Luana, no! La numero due! No, quella è la tre! Non l'hai capita? Fai un tirettino che ti si apre la mente, vai! Vai! Ti piace sta zona proprio? Luana, adesso io ne ho due! Tu prova a sbagliare! Ok, se tu me la lanci precisa nella mano, io parto al volo! Signori, questo numero in tutta Italia lo facciamo in tre! Io, Giorgio e Gianni! A senso, c'è un interno di Luana! Tu lancia precisa che io parto al volo! Sei pronta? Tieni la bambina! No, no, no! Se no ti spiego come si fa il kebab, perché c'è la mia ricerca! Va! Sei pronta Luana? Vai! Vai! Giorgio! Giorgio! Aiuto! Fermate l'asse, porca! Pi pazza! Dio te ne ha fatte due di male! Dio, mi dico il colpo! Tieni tu! Oh, non mollate adesso, eh! Dio, che morbido! Uno! Due! Tre! Bravo! Grazie! Grazie! Grazie, bravo! Grazie, bravo! Grazie! Ragazzi, vi siete divertiti? Sì!